Ciao a tutti, sono Giuliana, ho quasi 70 anni, sono sposata con Ruggero da 47 anni, ho due figlie, Laura e Daniela, e vivo a Novate Milanese, ma sono originaria della Lunigiana. Ah, scusate, mi suggeriscono di dirvi che non vi ho detto che sono anche una malata di Parkinson. E allora mi sono detta, bene caro amico Parkinson, giochiamoci questa partita. Questa sono io oggi, certo non sono Wonder Woman, non la vinco sempre io la partita, bisogna anche saper gestire le sconfitte, insegnano anche quelle.